Buongiornissimo ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e in questo video andremo a fare il bilancio sugli European Championship 2018 neonata competizione fondata e che ha avuto la prima edizione quest'anno che si è conclusa proprio ieri dopo 11 giorni di competizione. L'Italia l'ha chiusa al terzo posto del medagliere mettendosi alle spalle potenze come Germania e Francia. Siamo davvero una potenza e noi andremo a fare un bilancio attraverso il pagellone sport per sport di questo European Championship cominciando dal nuoto. Voto 9,5 davvero molto molto bene. 22 medaglie vinte nel nuoto. Record storico per una rassegna continentale per l'Italia. Gregorio Faltrinieri che c'entra soltanto un argento negli ottocento e un bronzo negli 1500. Condetti assente per infortunio. Confederica Pellegrini che ha lasciato i 200 stile libero per darsi ai 100 stile libero dove ha raccolto un misero quinto posto. Ma tutti i giovani italiani sono esplosi e anche gli eterni nuotatori certezze dell'Italia. Ilaria Cusinato a 18 anni è già una realtà e potrebbe ancora progredire nei suoi 200 farfalla. Margherita Fanziera che è esplosa definitivamente anche lei, la giovanissima. Simona Quadarella neanche ventenne, tre ori nei 400-800-1500. Incredibile. Rassegna continentale per Simona Quadarella anche se dovrà ancora migliorare per battere Cati Ledeschi. Ma ancora molto bene con i podi di Arianna Castiglioni nella Rana o Elena Dividia nella Farfalla. Davvero un europeo da ricordare a livello femminile. Ma anche a livello maschile non siamo stati da meno. Infatti, Miresi vincitore dei 100 stile libero che ha tantissimi margini di miglioramento. Andrea Vergani, bronzo nei 50 stile libero. Fabio Scozzoli, nella Rana, molto bene con l'oro. Pietro Codìa invece l'impresa nei 100 farfalla, bellissima. Bronzo per il 16enne Federico Burdisso nei 200 farfalla, nei 200 d'orso. Bronzo per il mio amico Matteo Restivo, che ho avuto anche l'onore di conoscere. Le noti dolenti sono state soltanto le staffette, ma insomma un europeo da ricordare per l'Italia. Atletica, 5. Solo l'oro ha guantato nella gara a squadra della maratone maschile. Poi misere quattro medaglie di bronzo. Davvero troppo poco per uno sport che continua a essere in crisi nera. Nel mezzo fondo i bravi Crippa, Chiappanelli e Rashik difficilmente potrebbero comunque competere contro i Keniani e gli Etiopi a livello mondiale. Gran Bretagna, Germania, Polonia, Francia, Belgio e Grecia prendevano continuamente i medagli e noi li guardavamo dai piedi del podio. Filippo Sorto, che era il grande promesso del costo europeo, ha raccolto un misero quinto posto nei 100 metri. Anche lui così così. Elena Valtilogara, arrivata alle Olimpiadi con un 2-0-2 nel salto in alto. Non si è manco qualificata alla finale. Alessia Trost, solo ottava nella finale del salto in alto. Gianmarco Tamberi, medaglia di legno, anche se qualcosa comincia magari a intravedersi. Gimbo Tamberi, che è saltato a 2-28, personale della stagione, niente male, sta migliorando anche lui. Però è tutta un'altra cosa dell'atleta che nel 2016 andava a sfiorare i 2-40 e faceva il record italiano. Peccato davvero. E soltanto Antonella Palmisano nella marcia e Massimo Stano potrebbero regalarci qualche medaglia a Tokyo 2020. E le prospettive sono tutt'altro che rose. Tuffi, 8, 4 medaglie, di cui 2 in specialità olimpiche. Nel trampolino a 3 metri sincro, Elena Bertocchi e la quindicenne Chiara Pellacani. Si sono giudicati addirittura loro, Noemi Batti, Argento sulla piattaforma, Giovanni Tocci, secondo da un metro. Davvero molto bene, con un possibile ritorno tra l'altro anche di Tania Cagnotto, magari in coppia ancora con Cristina Dallapè. Nuoto sincronizzato, 8, 9 medaglie in 9 gare. Davvero molto molto bene. L'Italia anche nel nuoto sincronizzato. Davvero bene l'Italia. Moneflamini Minisini, che si sono presi due medaglie, anche l'Eterna, Linda Cerruti, che continua a far molto molto bene. Il nuoto in acque libere io gli ho dato una 7,5. L'oro di Arianna Bridi nell'ultimo giorno. Comunque sempre nelle posizioni di vertice. L'Italia, con anche Giulia Gabrielleschi, che è una nuova promessa del nuoto delle acque di fondo. E comunque siamo stati sempre nella nazionale, una delle nazionali maggiori. Ciclismo su pista, 9. Ancora molto molto bene, perché a Tokyo potremmo giocarci quasi una decina di carte da medaglia. Come i Ria Viviani, nell'Omnium e nel Madison. Nella velocità femminile, con Miriam invece. Anche Filippo Ganna molto bene nell'inseguimento. Quindi insomma, è una certezza di Italia su pista. Ciclismo su strada e non posso che dargli 10 lode, perché due gare, due medaglie d'oro e due corse condotte impeccabilmente a livello tattico dall'Italia. Con le vittorie di Marta Bastianelli e Matteo Trentino. Semplicemente fantastica l'Italia. Mountain Bike 8. Infatti, nonostante mancasse la stella Kersbauer, a questo europeo è arrivato l'argento insperato di Luca Braidotta. Quindi molto molto bene la Mountain Bike che esce a testa altissima. Golf 6,5. Infatti, continua la buona tradizione con Tadini e Laporte che hanno preso una medaglia di bronze. La ginnastica artistica 7. Infatti, delle giovani che sono emerse dalla ginnastica artistica sono andate molto molto bene. Meno bene le veterane. Canottaggio 7,5 con il triunfo del 4 di coppia e diverse medaglie. E il triathlon invece quarto. Ancora una disciplina da migliorare per l'Italia. Mentre la Francia, la Gran Bretagna e la Germania continuano a starci davanti. Mettete un like a questo video. Condividete. Lasciate un commento qua sotto per sapere che cosa ne pensate. Fate anche voi i vostri pagelloni. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatta. Arrivederciissimo e noi ci vediamo al prossimo video.